non possiamo fare così adesso concentriamoci che ce ne sono tante vedrai che ci rifaremo quindi sicuro che ci faremo la casa tra mare e ricordate che hai fatto un buon lavoro, continuate a lavorare non potrei fare qualcosa di meglio ma questo non mi fa sentire meglio per oggi solo per te sapere che è un giorno difficile e bisogna fare meglio di questo e lavoriamo forti e torneremo più forte, ma f*** Copy